CERCHIAMO DI FARE UN PO' DI ORDINE Allora, Carlo, cerchiamo di fare un po' di ordine. Rispondimi. Tu che cosa vuoi fare? La politica o il cinema? Io voglio fare il regista. Voglio fare un film d'autore. Ma tu sei un autore? Sì, ma il pubblico non conosce certe tematiche, certe mie sensibilità. Lo voglio scrivere con nuchi. e poi se anche in sala ci dovessero essere dieci, dodici spettatori, non me ne frega un cazzo! E la storia del sindaco? La storia del sindaco mi pare che non se ne parla più. Non ne parlano più i social, non ne parlano più i giornali. Sta scemando. Scemando, eh, dici? Sì, sta scemando. Vai un secondo alla finestra, vai a vedere. Cioè? Eh. Carlo, con calma pensaci, no?